Al via i lavori di manutenzione ordinaria del canale Maestro della Chiana, un intervento che interesserà gli argini e il letto del fiume, un'opera che si inserisce all'interno di un progetto ben più ampio nato dalla Convenzione tra Regione Toscana e Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno per le seconde categorie per la manutenzione di tutti i corsi d'acqua più importanti. Sono interventi di natura come dire tradizionale per la nostra attività, taglio dell'erba, taglio degli arbusti e taglio delle piante, quindi un lavoro che generalmente noi chiamiamo di ordinaria manutenzione che però essendo su un canale come il canale Maestro Dettano un canale in seconda categoria invece avremo il contributo della Regione Toscana, importante contributo di circa un milione e mezzo per circa 7 chilometri di lavori. Un intervento direi molto molto importante, molto significativo che rende più fruibile il canale Maestro Dettano, innanzitutto per la prevenzione dei danni a persone o cose e poi anche fruibile perché i cittadini che vengono al canale Maestro Dettano e che fanno tutto il percorso magari da Arezzo a Chiusi trovano un bel ambiente. L'intervento di manutenzione comprende il taglio selettivo delle alberature presenti, questo fa parte di un più ampio progetto che è quello del secondo lotto delle manutenzioni straordinarie delle seconde categorie ed è uno degli stralci funzionali. Ad oggi si dovrebbero concludere in modo molto celere quindi entro la fine dell'anno, quindi in questo mese, sia qui nel canale Maestro che nella Valle di Chiana Retina in sinistra idraulica del canale Maestro, sia in destra idraulica del canale Maestro. Grazie.